Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incendio scoppiato nella notte nel garage di un'abitazione in via Galileo Galilei a Sant'Orso di Fano. Erano circa le 4 quando una signora ha allertato i vigili del fuoco. Accorsi sul posto con sei uomini e due mezzi da Fano, i pompieri hanno avuto difficoltà all'inizio ad avvicinarsi nel box. All'interno infatti c'erano vernici e materiale infiammabile che hanno provocato un forte calore impedendo ai soccorritori di avanzare. Per le operazioni di raffreddamento sono arrivati due uomini con un altro mezzo da Pesaro per aiutare i colleghi. Una volta dentro hanno trovato tre bombole di GPL da 10, 15 e 20 kg, portate nell'immediato all'esterno e quindi messe in sicurezza. Ad accorgersi dell'incendio è stato il proprietario di casa, Filippo Santinelli, che più tardi si è accorto che il padre che vive con lui, Walter Santinelli, di 67 anni, non era in casa. Solo intorno alle 8 si è scoperto che l'uomo si era recato da solo al pronto soccorso a causa di ustioni di primo e secondo grado riportate agli arti inferiori. E proprio su questo elemento si stanno sviluppando le indagini insieme all'origine delle fiamme. Filippetti probabilmente era nel garage quando è divampato l'incendio e ad allertare i vigili del fuoco è stata sua moglie, Marzia Pier Santi, di 64 anni. I pompieri che hanno lavorato fino a tarda mattinata hanno dichiarato inagibili anche il terrazzo soprastante e l'autorimessa vicina con sei box auto. Il rogo infatti si è sviluppato nei garage adiacenti provocando danni a oggetti e attrezzature. A raccontarci dell'accaduto è un vicino di casa svegliato in piena notte. Lei praticamente ha il garage adiacente, quello che è andato a fuoco. Era un garage adiacente, aveva una finestra comunicante e le fiamme dal garage che ha preso fuoco sono passate in questa cantinetta che ho adiacente io. Che danni le hanno provocato? Io in questa cantinetta tenevo attrezzi miei personali, trappano, una stampante, tutti gli accessori che di solito si usano per fare i lavori fatti in casa. Gli altri pare che sia andato bene, i tubi si sono surriscaldati perché essendo alte le fiamme, quindi ci sono rotti i tubi degli scarichi di 3-4 famiglie che sono insieme, quindi vanno sostituiti e i danni poi piano piano si riparano. Dovete ancora cercare di quantificarli i danni? Ma tanto, cosa poi sarebbe potuto succedere anche a me? Io ho una cantinetta.